Mezza tonnellata di droga è stata scoperta martedì mattina dalla guardia di finanza di Lecce dopo un avvistamento sulla strada provinciale 131 Lecce-Torre Chianca. I finanzieri hanno notato un fuoristrada condotto da un 45enne pregiudicato che stava trainando su un carrello una barca da pesca di quasi 6 metri e insospettiti hanno prima seguito il mezzo e poi avviato un minuzioso controllo nei pressi di Borgo San Nicola nel centro del capologo Salentino dove l'uomo aveva nascosto l'imbarcazione. Grazie anche al fiuto dell'unità cinofila nel doppio fondo dello scafo i militari hanno scoperto un enorme quantitativo di droga ma anche armi e munizioni all'interno dell'abitazione dell'uomo. Sequestrati in totale 450 chili di marijuana, 75 chili di hashish e 3 litri e mezzo di olio di hashish. L'uomo alla guida del fuoristrada è stato arrestato e condotto in carcere dalle prime indagini condotte dalla guardia di finanza è probabile che la droga rinvenuta proveniente dall'Albania potesse servire per rifornire il mercato locale e nazionale.